Io prima di essere un uomo che è stato portato qui da Zauli sono un professionista quindi è normale che mi dispiace il fatto di un esonio di un allenatore ma mi sarebbe dispiaciuto a prescindere perché comunque rappresenta un fallimento non solo per il lavoro svolto dall'allenatore ma anche per noi giocatori ovviamente perché siamo noi che andiamo in campo e quindi ero dispiaciuto per questo insomma però il Presidente ha deciso di dare una scossa, di fare questo cambiamento e quindi lavoro col massimo impegno come facevo prima e quindi non è cambiato nulla per me mi dispiace ovviamente per il mister però sono un professionista e quindi faccio le cose al meglio Mi adatto, l'ho fatto già in passato il centrocampista 2 quindi sono contento perché le prestazioni stanno migliorando a livello di squadra e quindi dobbiamo proseguire così ho sempre dato il massimo e ho cercato di fare il mio meglio le prestazioni non sono state sicuramente le mie migliori e di questo ne sono consapevole come sono consapevole che si può ancora migliorare tanto dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo dando ogni giorno in allenamento il massimo e poi questo lo riportiamo poi il sabato alla partita può essere la gara della svolta dal punto di vista mentale nel senso che magari aiuta a vincere quindi dobbiamo continuare su questa strada è normale che questi tre punti ci danno un minimo di fiducia un minimo di tranquillità però subito dobbiamo pensare alla prossima partita che è una partita difficile ci aspetta il sud Tirol che è una bella squadra grazie a tutti grazie a tutti